Orietta Berti, vero nome Orietta Galimberti, nata il primo giugno 1943 a Cabriago, è una cantante, personaggio televisivo e attrice italiana. Figlia di Mafaldo Oreste Galimberti e Vittoria Anna Vitali, Orietta iniziò a cantare giovanissima, incoraggiata dal padre, grande amante della musica lirica. Ha studiato musica e ha cantato l'opera. Fin da piccola ha mostrato uno speciale talento per il canto, motivandosi a partecipare a concorsi canori locali e ad esibirsi nelle feste di paese. La svolta nella sua vita avvenne negli anni 60 quando partecipò al Festival di Castrocaro, concorso canoro che le portò fama nazionale. Nel 1961 partecipa alla sua prima manifestazione canora ufficiale, il concorso VC Nuove Disco d'Oro di Reggio Emilia, con il brano Il Cielo in una stanza di Gino Paoli. Qualificandosi per la finale dell'organizzazione il 15 aprile al Circolo della Tarantola, ha concluso sesta, dietro alle altre Paola Neri, prima, e Eva Danicchi, seconda, mentre dietro di lei si è piazzato Gianni Morandi, nono. Durante questo concorso al Teatro Comunale, Romolo Valli conobbe Giorgio Calabrese, all'epoca direttore artistico di Karim, che le offrì un contratto discografico. Iniziò così l'attività discografica nel 1962, incise i suoi primi due 45 giri ma non uscirono. Effettivamente distribuito. Ha poi firmato con la Palidor nel 1964, registrando Perdendoti e il suo primo album, Orietta Berti canta Suor Sorriso, un LP con canzoni di Suor Sorriso, con Dominic. Ha ricevuto anche diversi programmi televisivi. La cantante attirò l'attenzione del pubblico e il successo arrivò l'anno successivo con la canzone, Tu sei quella che vinse il premio Un Disco per l'estate 1965 e la rassegna internazionale di musica leggera, più tardi nello stesso anno vinse un premio al Festival delle Rose del 1965 con la canzone I Want to Say Thank You. Nel 1966 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Io ti darò di più, scritto da Alberto Testa e Memore Migi e alla terza edizione di un disco per l'estate con Quando la Prima Stella e tutte queste canzoni convergeranno in lui. Secondo album con lo stesso nome. Nello stesso anno vince il Festival di Lugano con Ritorna con il Sole. Tornò a Sanremo nel 1967 con Io, Tu e le Rose, canzone che, sebbene ricordata tristemente per essere stata citata da Luigi Tenko nella lettera da Dio, fu uno dei suoi grandi successi. Nello stesso anno la terza partecipazione a un disco per l'estate con Solo Tu Arduini di Federico Monti e Orietta Berti registra a Parigi il suo terzo album, con l'orchestra Sauro Silie e il contributo del celebre gruppo vocale Swingle Singers, e partecipa al 1967 Festa delle Rose con Potrei, scritta sempre da Federico Monti Arduini. Nel 1968 partecipò al terzo Festival di Sanremo con Tu che non sorridi mai, che però non arrivò alla serata finale, ma con Non illuderti mai si piazzò secondo in un disco per l'estate. In autunno esce il suo quarto album, Dolcemente, e partecipa al Canzonissima, arrivando in finale con Semminnamoro di un castello come te, scritto da Totosavio. Nel 1969 partecipò nuovamente al Festival di Sanremo con Quando l'amore che divenne poesia di Mogolle Soffici, ma il suo più grande successo discografico dell'anno fu l'Altalena, terzo classificato in un disco per l'estate. Orietta Berti ha partecipato a molti festival musicali italiani, che hanno contribuito a confermare la sua immagine di interprete di canzoni romantiche e malinconiche. Alcune delle sue canzoni più famose includono Fin che la barca va, Io, Tu e le rose e Quando la prima stella. La vita personale di Orietta Berti è sempre al centro dell'attenzione mediatica. Ha avuto un lungo matrimonio con Osvaldo Paterlini, dal quale ha avuto due figli, Jennifer e Graziano. La famiglia è sempre stata al centro della sua vita e Orietta ha conciliato la carriera con i ruoli di madre e moglie. Oltre alla carriera musicale, Orietta Berti si distingue anche per il suo impegno sociale e umanitario. Partecipa a diverse iniziative di beneficenza e si dedica alla tutela dei diritti dei bambini. Inoltre, è stata ospite in numerosi programmi televisivi, consolidando la sua presenza nel panorama mediatico italiano. La carriera di Orietta Berti è stata segnata da numerosi premi e riconoscimenti. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi delegati assegnati dalla critica televisiva italiana e altri prestigiosi riconoscimenti per il suo contributo al mondo della musica. Orietta Berti, nonostante siano passati molti anni dal suo debutto, continua ad essere un'icona della musica italiana. La sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica hanno mantenuto un impatto potente, dimostrando la sua popolarità duratura. All'inizio di settembre del 2023, la vita di Berti ha preso una svolta inaspettata e devastante. Nota per essere loquace e vivace, improvvisamente diventava silenziosa, aveva difficoltà a seguire le conversazioni e dimenticava persino i luoghi familiari. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi sostenitori erano estremamente preoccupati e il 25 settembre è stato portato in ospedale. All'arrivo in ospedale, l'equipe medica ha iniziato una serie di esami per svelare il mistero dietro il peggioramento delle condizioni di Berti. La diagnosi fu scioccante, Berti aveva la toxoplasmosi. La toxoplasmosi è un'infezione causata dal parassita toxoplasma gondii, che può colpire molti organi diversi, compreso il cervello. In alcuni casi, può rimanere inattivo per anni senza causare alcun sintomo. Tuttavia, quando il sistema immunitario viene compromesso, i parassiti possono riattivarsi e attaccare il cervello, provocando gravi danni cognitivi e fisici. I sintomi riscontrati da Berti erano coerenti con la toxoplasmosi, tra cui confusione, mal di testa ed estrema stanchezza. La toxoplasmosi può essere particolarmente pericolosa nelle persone con un sistema immunitario indebolito perché può portare a gravi danni ai nervi. La diagnosi fu allarmante non solo per Berti ma anche per la sua famiglia, che mai avrebbe immaginato che un parassita così silenzioso e senza pretese potesse causare tanta devastazione. La battaglia di Berti contro la toxoplasmosi divenne ancora più intensa quando ulteriori test rivelarono che era affetta anche dall'eucoencefalopatia multifocale progressiva. La PML è un'encefalite virale eccezionalmente rara che colpisce principalmente la sostanza bianca del cervello. Questa condizione è spesso associata al virus J-C, che può rimanere dormiente nel corpo per anni ma può anche riattivarsi, soprattutto nelle persone con un sistema immunitario compromesso. La PML interrompe gli impulsi elettrici del sistema nervoso, portando a una serie di sintomi neurologici che possono essere debilitanti. Questi sintomi includono spesso debolezza, perdita di coordinazione e deterioramento cognitivo. Per Rory, l'infiammazione causata dalla leucemia promielocitica sta attaccando il lobo frontale, un'area del cervello importante per la memoria e il processo decisionale. Ciò ha provocato una grave perdita di memoria a breve termine, rendendole estremamente difficile partecipare anche alle attività quotidiane più elementari. La diagnosi di Berti è stata sorprendente, ma c'è un barlume di speranza per i pazienti come lei. In alcuni casi, la leucemia promielocitica può risolversi da sola, soprattutto nelle persone con una conta di cellule T superiore a 300-400. Le cellule T svolgono un ruolo importante nella risposta immunitaria del corpo e un sistema immunitario forte può talvolta controllare il virus J-C e fermare la progressione della leucemia promielocitica. Tuttavia, è importante notare che questa risoluzione spontanea e rara è spesso imprevedibile. In molti casi, la PML è una malattia rapidamente progressiva con un alto tasso di mortalità. Mentre le condizioni di Berti continuavano a peggiorare, la prognosi era in fausta. Gli effetti combinati della toxoplasmosi e della leucemia promielocitica le lasciarono solo tre o quattro mesi di vita. L'equip medica ha offerto interventi e cure, ma Rouri ha preso una decisione straziante, non voleva essere mantenuta in vita artificialmente. Questa decisione riflette il suo desiderio di preservare la sua dignità ed evitare inutili sofferenze nei suoi ultimi giorni di vita. La famiglia di Berti rispettò i suoi desideri, a testimonianza del profondo amore e della comprensione che li univa. La mattina del 14 dicembre, circondata dalla famiglia e dall'amata figlia, a Berti è stato tolto il supporto vitale. È stato un momento difficile ed emozionante per tutti i soggetti coinvolti, ma sapevano che era quello che avrebbe voluto. Per rispettare la sua scelta, si assicurano che lui non debba sopportare dolori e sofferenze inutili, dandole la pace che merita nei suoi ultimi momenti insieme. Un matto, a differenza di ciò che è avvenuto dopo, sapeva far ridacchiare, quantomeno, è quando Hulk e Thor si ritrovano in questa specie di simile arena dei gladiatori. Thor, senza il suo Mjolnir, ma gira che ti rigira comunque, ha un martello in mano. Hulk fuori controllo, ma guarda un po' chi se lo aspettava. E due, uno nolente e l'altro abbastanza volente, si menano. Thor ha sempre questa cosa che le dà come un matto e le piglia, sempre come un matto, ma non si fa niente perché, sai, è un dio. E quindi non è che valga più di tanto, ma il momento della tecnica di Hulk per pestare tutti gli dèi che gli passano sotto mano è sempre un piacere. Come batti un dio sul terreno 27 volte, come suo fratello poco tempo fa. Alla numero 6, botte con quello sbagliato in Justice League. I nostri hanno avuto un'idea geniale. Per risolvere i problemi del film, conviene resuscitare Superman. Ma davvero, cazzo che geni, non ci sarebbe arrivato nessuno dopo tutto. Però c'è un ma, ed è che Superman voleva restare a nanna. E quando si sveglia, i coglioni girati come chi la domenica mattina si scorda la sveglia accesa alle 7. E si esibisce nella sua versione personale di, no dai, altri 5 minuti. Quando Cyborg, per sbaglio, gli spara quasi in faccia, tra l'altro, ha per sbaglio incredibile. Cioè, hai appena resuscitato l'unica persona che non vuoi fare incazzare. Con Barry accanto poi B, che potendo impedirlo, però, resta fermo. Flash resta fermo. E da lì è uno slomo, uno contro quattro, con questi quattro lanciati come birillini ovunque. Batman, al solito, è quello che le piglia di più. È piuttosto estetica, però, come scena. E la numero 5. Un bel piano in più piani in Spider-Man No Way Home. Ossia, non avere un piano in piani astrali, ma tirarne fuori uno. Che manco Einstein e Newton insieme. In mezzo secondo. Nel mentre che una versione alternativa della tua psiche incorporea dei sensi di ragno, sta venendo inseguita da uno degli esseri più potenti dell'universo, cercando di menarti perché sei contro la pena di morte. Eh, il Doc Strange super repubblicano del Texas vuole che villain che ha fatto arrivare come un salame, perché ha ascoltato un quindicenne in pratica, o quanti anni ha Peter, sulla terra vengano aiutati a casa loro e muoiano là. Ma Peter dice no, non si fa così. Gli fa una pernacchia, gli ruba il coso anticosi lì che era, non me lo ricordo. Si inseguono nel piano di quel cazzo che vogliamo infilare in questo film. Ce l'infiliamo delirante all'ultimo Peter, però se la cava con un intreccio di ragnatele che incatena geometricamente precisamente stress. Ma A che cosa sta succedendo? B, il superpotere di Peter è usare bene i suoi meccanismi a ragnatele, i sensi di ragno. Non avere la geometria in testa. Alla numero 5, e invece no, scusate, alla numero 4, stavolta arrivano preparati in Avengers Age of Ultron, Hulk è fuori controllo. Ma guarda, questa mia è nuova. A sto giro è stata Scarlett Witch a fargli dare di matto con la magia, ma sapete cos'è più efficiente della magia? Un Hulk a reattore nucleare in grado di sparare raggi fotonici dal pet e dalle mani di volare. È un po' meglio dei semplici pugni urlando Hulk spacca, eh? E siccome alla fine Hulk spacca, sì, ma i coglioni di tutti i suoi colleghi e amici perché fa solo casino, è così che Tony si presenta sul campo dandogliene come se non ci fosse un domani e fornendo almeno 5 anni di lavoro ininterrotto a ogni compagna edilizia cittadina locale. E alla numero 3 botte ancora con quello sbagliato in Batman vs Superman Dawn of Justice. Perché non menarsi ancora con Superman dopo tutto? Non è che ci ha appena devastato in 4, no? No, in realtà, appunto, non lo ha fatto. Cioè, lo ha fatto solo in questo video, ma non nella linea temporale dei film della DC. Questo è prima. E quindi il porbatta ancora non lo sa. E come il calabrone non sapendolo lo fa lo stesso, ci prova. Ora, quella che il calabrone...